Come ben sapete prima o poi due team forti si devono sfidare E' giunto il momento della verità I B-Bot hanno lanciato la sfida all'IRCN Ovviamente noi non abbiamo rifiutato Hanno avuto il coraggio di chiamare Baffo e Manu E ovviamente ci sarò anche io Tutti e tre insieme Contro i B-Bot Quando un team forte Perché i B-Bot fidatevi che sono forti Un team forte va sfidato Noi non ci tiriamo indietro Da una parte ci saranno gli R-CN Prendiamo esempio con Sculli Devi fare da esempio Ti va bene? Ok li va bene, li va bene E' sorpresa Non so perché ho preso lui Da una parte avremo i B-Bot Boxfight 3v3 Ci sarà solo un team vincitore Vinceremo noi, ne sono sicuro O almeno ci proviamo Vincerà la parte del bene O vincerà la parte del male Ok grazie, grazie a me a te due per avervi fatto da esempio Scusate se vi ho disturbato Manu, creative player fortissimo Baffo, competitive player fortissimo B-Bot, campione mondiale No sto scherzando Siamo pronti? Possiamo andare Let's go Dobbiamo incrappare le mie bot eh Vai, facciamoli venire Final bet Dopo un mese la sfida più eppata di sempre Vai Dove sono? Invitiamo li va Oh madonna ma quanti B-Bot ci sono? Ma chi è? Ok, ok andiamo Siete pronti alla sfida decisiva? Guardate che questa sfida decreterà chi è il vero team più forte Quindi state molto attenti Perché io mi impegnerò Baffo può anche giocare ad occhi chiusi Lo sapete Io non uso la dark bomber perché è troppo importante No no Manu mettila No è troppo importante No è troppo importante Allora ci siamo Io con Baffo e Manu contro i B-Bot Contro Rog Contro Tommy Contro Brando e contro Gian Prato Come voi siete in quattro Vi do una possibilità Quando volete potete decidere di fare un cambio Se state andando male, ok? Sono Brando, Tommy e Gian Prato Siamo pronti? Aspettate Ma come è un Baffo? Cosa insiede? Non è squadra 1 eh Ma è RCN Manu X quello vero? Sì 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 È proprio lui È proprio lui Io avrei paura così te Ci siamo? Ok si parte 3v3 Rog non c'è perché ovviamente lo so c'è 3 Andiamo da Baffo Manu lì Ok Dove sono questi B-Bot maledatti Vai spama spama Baffo 25 Preso 33 Sono tutti là eh Vabbè andiamo 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 da Manu Il muore è mio Ok bravissimo Confermato Oddio C'è tu 40 knock Vai Intanto 33 bianco Ah già lo ce l'ho Spacchiamo sti B-Bot Eh vabbè Andiamo Dov'è 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 Li stavo distruggendo Li stavo bullizzando Calma Eh ma sono troppo forti noi Sono troppo forti Dov'è? 50 knock E let's go Prima vita Ma Rog Non siamo troppo più forti? Eh vabbè dai Il primo round Ci sta C'è Manu che ultimamente È diventato Troppo forti Sappiamo che sarebbe stata così facile Baffo Se tu lo scarso del team Adesso lo sappiamo Calma 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 Che quasi ha bagato tutto Perché questa sfida Secondo me È talmente in hype Che non vogliono farcela giocare Si rinizia Ma ovviamente 1 a 0 per noi Perché 1 è andata eh Gian Prato Per me tu sei il più scarso Di pivot Te lo dico Via Sono tutti là Oddio mi ha scoppiato Vieni vieni Posto Ma basta Baffo va da solo Dai 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 Li spacco Siete calmo Baffo Aspetta 1 Arrivo E sotto Sopra Dietro 51 Per farmi gli cillini al volo Let's go La clappa Manu Grande Manu Easy Easy E siamo 2 a 0 2 a 0 Roghi io inizierei già a pensare Per il cambio eh Che è il tritto a giocare Con i Vibot Siamo troppo forti Siamo troppo forti Mi sono carichissimo oggi Andiamo Così quasi li pusho da soli Andiamo 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 Sono tutti là Sono tutti là Oddio Sono tutti lì Oddio 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 Questi Vibot sono pazzi Vai Manu Oh R scarico Hai arrivato 270 Come l'hai fatto 270 Sarebbe già a bordo No Li vedo lì Ma che fanno Oddio Oddio GG per lui Molto bravo Oh C'è strutto uno 30 Andiamoci 20 Oddio Mi ha scoppiato 2 2v2 2v2 Aia Manu Dici di vita Deve fare qualcosa a lui Prova a arrestarlo Occhio Lo vogliono arrestare Baffo vuoi affrontare Baffo vuoi affrontarli da solo Ma veramente No Vabbè Morto Manu Baffo sei da solo contro 3 Buona fortuna Ma cosa stai facendo Baffo l'importante è che non ti fai picconare Easy E c'è sempre più forti No vabbè Baffo sei disumano Nerfate Non lo so Fateci un aggiornamento su Baffo Non so più cosa dire Tipanzi di Baffo Questa patch notte è stato baffato E c'è Nair Baffo Let's go No 3-0 Io Rogue farei il cambio Farei il cambio Ok Quindi già però te lo gioca Rogue prende nel suo posto Il capo del team Ora però i B-Bot hanno fatto un cambio Quindi non so se cambierà qualcosa Effettivamente Ok Ho partito io Sorry Li vedo Oddio mi ha distrutto Occhio Mi prendo da dietro Sto facendo ogni 30 Ok preso Tu cura ma mi push Eccolo è da me Da me Vado su No è qui Cavolo Non posso buildare qui C'è un altro sotto Preso Vittato No Ha uno di vita Tommy Ha uno di vita Dai 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 Che Manu Torna Preso Dai Baffo Ok Ma cos'ha oggi Baffo Non entrami lì Baffo Devi giocartela di testa Ok sta arrivando Dietro la scala Una cosa si inventa qua Baffo Eh ma cosa può fare No così non può Così impossibile Ah eh ci sta GG È la prima che vincolo Tra uno Ok Occhio forse il cambio che hanno fatto È stato È stato utile Non sottovalutiamo questo cambio Spammo con l'aria Spammo con l'aria Baffo vai Vado Eh lo sapevo Lo sapevo Bravo Manu Tieni Oh 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 Dietro 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 No mi hai chiuso Baffo Mi hai chiuso Mi hai chiuso Mi hai chiuso Aiuto No ci sto distruggendo qui Preso Ok Bravo Manu Vai ti hai chiuso Preso Ok Dai È qua Vittato Dai 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 Ok va bene L'ho fatto da kill Però dai sto aiutando eh Ne manca una abbiamo vinto Ne manca una abbiamo vinto L'RCL sarà più forte Mi sa che non devo lanciare la sfida contro di noi eh Paroli R 60-3 in testa Oddio Oddio Oh ho distrutto uno L'ho distrutto ragazzi L'ho distrutto Non ho più vita Sicura? È qua che è sicura Andiamo Ok Sarà uno Bene Dai che vinciamo Questa è vinta Questa è vinta Vai Noccata Andiamo 120 È l'ultimo Vai piccoliano Piccolate 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 Vai 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 piccolate Ferti col piccone Andiamo Vai l'ho chiuso Dov'è? Compa dove è? Vai qua Dov'è l'ultimo B-Bot? Eccolo Nooo Let's get it Vinta facile Troppo forti Guarda Manu Come li deride No Manu Questo comportamento è scorretto Via via dal team Via via Cacciamolo Via via Vai via Ripudiato Allora B-Bot Oggi vi invito noi Comunque Adesso non è che per una box fight Allora siamo più forti noi Invece sì No scherzo Scherzo Manu smettiamolo È stata una bella sfida No però Che dite? Sì dai Sì sì Ma voi siete impegnati almeno? Eh chi lo sa Ma come chi lo sa? Dove essere che abbiamo fatto vincere Sì Certo allora Domanda ai miei scritti Dovete tutti dirmi nei commenti Con si no Secondo voi hanno trollato O hanno giocato serie? Per me hanno giocato serie Ragazzi guardate che c'erano Manu e Baffo Cioè lo sapete quanto sono forti loro eh? Certo che lo sappiamo E io adesso Ultimamente voi stanno migliorando Sempre di più E inizio a aver paura Certo Io sono più forte E vabbè Manu basta con questi loser eh Basta Con la giravolta Con la piroletta Dai Comunque la sfida finisce qui È stata la bella sfida Come promesso Senso È un promesso che l'avremmo fatta Quanti like e chiediamo per questo video ragazzi? 15.000 15.000 15.000 Dai ci sta Ah beh Abbiamo vinto a noi Non è che c'è tanto da dire Abbiamo vinto a noi putto Cari Bebot Vi conviene allenarvi E una volta che sarete allenati Potrete tornare Va bene? Vi allenerete? Va bene Va bene Va bene dai Vedremo tra un po' di tempo E voglio vedere che sorprese Mi tirerete fuori eh Guardate che io lo segno nell'agenda Lo segnerò nell'agenda Cari Bebot A presto Volete supportarmi nello shop Con il vostro acquisto di V-Bucks? Bene ragazzoni Se volete supportare il mio canale È molto importante Basta adesso ragazzi Supporto un creatore E basta digitare Bebot Artino Basta player 1 Basta fare accetta E ogni volta ragazzi Che comprate Qualsiasi cosa nello shop Che sia un ballo Che sia una skin Che sia un piccone Andrà a supportarmi Per me vi assicuro Che è molto importante Magari a voi non costa nulla Siccome ragazzi Magari Se volete già shoppare una skin Con supporto al creatore Non vi capirà nulla Inoltre Taggandomi su Instagram In una vostra storia Probabilmente Se dovessi vederla La reposterò Sbloccherò i direct Perché lì si sbloccheranno E ogni tanto Se riuscirò Vi risponderò Magari a qualche domanda Che volete farmi Tutto questo Un salutone da vivo Fate bravi ragazzi